Alvia la tredicesima edizione di New Media nuove generazioni. Il 12 maggio alle 9 nella sala polifunzionale della provincia il convegno promosso dall'associazione Project San Gabriele. Si torna insomma a parlare di internet, del web e soprattutto del cyberbullismo. Sì, sono argomenti che negli ultimi mesi hanno in qualche maniera riempito le pagine di giornali, un argomento molto delicato perché tocca in prima battuta le nuove generazioni che in qualche maniera hanno un grande senso tecnico degli strumenti ma ovviamente mancano di senso critico. Quindi questi convegni benvengano perché sono proprio nella direzione di creare appunto insieme ai ragazzi ma anche a genitori e docenti un senso critico nell'utilizzo dei nuovi strumenti digitali dai social allo smartphone ma anche nell'anetichetta cioè un modo di comportarsi correttamente online e quindi di cercare di rispettare le proprie e le altre libertà. Per quale ragione l'associazione Project San Gabriele ha voluto portare avanti questo progetto, insomma parlare di cyberbullismo, avvicinarsi in qualche modo anche ai giovani? Ma la ragione non è una ragione che risale a ieri o all'altro ieri. Questa è la tredicesima edizione di questo convegno e noi ci siamo occupati sempre di comunicazione, social network e da un paio d'anni, visti gli episodi che accadono a Teramo, in provincia di Teramo, abbiamo ritenuto parlare anche di bullismo e di cyberbullismo. Come dicevo il fenomeno non è di oggi ma sembra che allora, anzi, quando noi facemmo le primissime edizioni di questo convegno al quale hanno partecipato personaggi eminenti del mondo della cultura, della comunicazione e anche della medicina tipo Paolo Crepe, Maria Rita Parsi, Federico Tognoni e altri non meno importanti, soprattutto Mario Rusconi, il presidente nazionale dei dirigenti scolastici che appoggia in pieno questo nostro convegno, anzi ci tiene a partecipare perché la voce degli insegnanti spesso e volentieri manca nella vita dei giovani.